Grazie al Ministro che ha fatto una mossa veloce, quindi credo aiuti molto coloro i quali avevano organizzato questa giornata in tempi non sospetti. Se vi posso permettere una battuta, mi piace quello che il Ministro Brunetta ha appena detto perché uno dei professori che io apprezzo di più adesso non diciamo il nome che insegna ad Harvard, a Yale, quando gli studenti gli fanno una domanda sulla quale lui non ha immediatamente tutte le carte per rispondere dice lo saprò domani che per me è il massimo esempio di onestà intellettuale. Il Ministro Brunetta c'è già sa tante cose oggi, ne saprà più domani. Adesso fuori dalla battuta io vorrei molto rapidamente ricordare che questa vicenda dell'Internet Governance Forum ha avuto un protagonismo italiano fin dall'origine. Adesso al di là delle discussioni sulla continuità, discontinuità, le alternanze di governo c'è un dato che va salvaguardato. Non per una ragione come dire puramente di piccolo orgoglio nazionale che pure credo non guasti in queste situazioni ma perché il modo in cui noi abbiamo lavorato e l'iniziativa di oggi mi pare significativa è stato quello che ha dato impulso a tutta questa materia. Se si gira in questo periodo su internet si trova tutta una serie di iniziative che riproducono il modello che noi abbiamo messo a punto il che va benissimo, è un buon segno e non sarebbe un po' singolare che ci trovassimo in seconda fila proprio noi. Questa è una vicenda che come sanno molti dei presenti comincia a Ginevra nel 2003, prosegue a Tunisi con la seconda conferenza internazionale sulla società delle informazioni, si stabilizza con l'Internet Governance Forum annuale prima ad Atene poi a Rio, quest'anno avremo la riunione in India. Che cosa abbiamo proposto sostanzialmente superando molte diffidenze, anche molte ironie devo dire sinceramente, abbiamo detto anche internet ha bisogno di una costituzione. L'Internet Bill of Rights che cosa che ha fatto arricciare molti nasici, io poi personalmente mi sono preso tante critiche non sempre garbatissime ma poi come si dice il tempo è galantuomo, oggi noi abbiamo non solo a livello interno ma a livello internazionale una convergenza su questo punto. Siamo riusciti a capire che avere un Internet Bill of Rights non vuol dire mortificare la libertà in rete, non stiamo chiedendo né norme amministrative costrittive, né un codice penale penalizzante ma come è nella natura delle Costituzioni una regola per tutelare le varie forme di libertà che si manifestano in rete. Questo è il punto chiaro. Naturalmente a questo non si arriva attraverso i processi che abbiamo conosciuto in passato. La legge del mare si è venuta lentamente stratificando poi un signore con grande piglio politico che era appunto Napoleone, ha trovato la persona giusta e l'ha consolidata in un certo momento storico. Noi siamo in una fase di transizione, noi sappiamo che la rete rifiuta la logica up-down e vuole invece la logica bottom-up e quello che sta accadendo si stanno formando in rete quelle che si chiamano dynamic coalition cioè gruppi attivi per così dire autoprodotti, auto-organizzati, effetto della consapevolezza che si deve andare in questa direzione e che stanno producendo tutta una serie di documenti importanti per arrivare all'Internet Governance Forum in India avendo già una piattaforma maggiormente precisata. Sta avvenendo un processo di consolidamento di consolidazione di questa iniziativa che come si dice ha due caratteristiche. Una è quella multi-stakeholder. Ci sono soggetti istituzionali, ci sono cittadini singoli organizzati, ci sono le imprese e questo è molto importante perché io faccio riferimento alle imprese non per compiacimento ma perché si stanno lentamente rendendo conto che anche nel loro interesse fare questo tipo di operazione. Naturalmente non gli si possono lasciare tutte le carte in mano. È anche però un'iniziativa a diversi livelli perché ciò di cui noi stiamo parlando è avere delle regole che non è detto che debbano essere immediatamente prodotte su scala planetaria con una convenzione tradizionale. Abbiamo l'Europa che è già una regione del mondo con 27 paesi. Abbiamo l'attenzione di aree del mondo come l'America Latina che vuole muoversi secondo un modello assolutamente simile a quello dell'Europa. Io allora segnalo al Ministro anche se apparentemente non è nelle sue competenze ma io credo che può avere un ruolo fondamentale che a Rio è stato concluso un joint agreement tra il governo italiano e quello brasiliano proprio per andare avanti su questa strada che c'è una serie di paesi che premono per poter aderire a questo agreement che molti vengono proprio da quell'area dell'America Latina che ha in questo momento anche la conferenza transatlantica che si è appena svolta un'attenzione. Ecco si sta costruendo una massa critica di enorme importanza che può portare avanti questa iniziativa dell'Internet Bill of Rights. Il governo italiano ha lavorato con molta intensità, qui c'è Beatrice Magnolfi che è stata protagonista nell'ultima fase di questa vicenda, nulla arriva dal cielo, c'è sempre il lavoro delle persone. In questo momento l'Internet Governance Forum Italia è un punto essenziale di consolidamento per poter andare avanti. Come andare avanti? Lo dico molto rapidamente perché tutti sono stati molto sobri, non vorrei essere prolisso. L'anno scorso proprio per sfruttare non una rendita di posizione ma questa sorta di primato che l'Italia si era guadagnata è stata organizzata a Roma una conferenza internazionale con 58 paesi che ha affrontato esattamente questo tipo di problemi. A Rio c'è stata una corale richiesta di ripetere quell'esperienza. Come ricordava il Ministro, in Sardegna ci sarà il G8 e credo che sia stata una buona iniziativa quella del Presidente della Regione di mettere nell'agenda sarda tra i grandi eventi che dovranno preparare il G8 uno dedicato proprio a questo tipo di problema. Naturalmente adesso sarà un problema di rapporti tra il Presidente della Regione e il Governo, cioè il Ministro, era nelle intenzioni e questo ci consentirà di rispondere a quella richiesta proprio venuta dal basso e poter avere in Italia tra fine settembre e inizio ottobre la seconda edizione che dovrà essere la preparazione dell'Internet Governance Forum in India che sarà agli inizi di dicembre. Posso aggiungere sulla base di un'esperienza recentissima a Ginevra tre giorni fa, giovedì scorso, che c'è un crescente interesse dei Parlamenti. Nella passata sessione a Rio non arrivavano a dieci i parlamentari presenti, ci saranno molte decine a Rio. Segno che questa talpa ha ben scavato e che ormai l'Internet Governance Forum diventa un luogo importante. Uno dei presenti che Vittorio Bertola, in uno dei tanti scambi che vorticosamente si hanno su Internet, ha messo bene in evidenza dicendo ormai non discutiamo soltanto di alcuni temi che sono importanti ma un po' logorati dalla ripetitività, il carattere neutrale della rete, l'apertura e via dicendo, dobbiamo essere capaci di mettere al centro dell'attenzione il problema delle regole planetarie di Internet. Ecco, questo è ciò che noi abbiamo cercato di fare, che faremo meglio con l'Internet Governance Italia e che però senza conciò chiedere al governo di mettere le mani sulla rete perché questo porterebbe sicuramente a reazioni non positive. Però noi l'abbiamo visto a Rio. Quando i governi si sono mossi è venuto fuori il joint agreement tra Italia e Brasile e cambiato l'atteggiamento delle Nazioni Unite. Hanno capito che c'erano alcuni signori che giocavano a fare l'Internet Bill of Rights e il rappresentante delle Nazioni Unite in conclusione ha rovesciato la posizione di assoluta distacco per non dire scetticismo programmatico e ha detto sì l'Internet Bill of Rights serve. Ecco allora che io spero sul serio, se posso usare una parola che viene tratta dal gergo politico di questi tempi che non mi piace per niente, che è quella di continuità nelle cose buone, mi permetto di fare questo invito al Ministro. Grazie molte. Grazie Stefano, grazie amici tutti. Io devo scappare dal Ministero. Oggi lavoriamo alla bozza della prima delega sulla riforma della Bassanini e ti dico un elemento di continuità. Accanto a me sarà il Professor Bassanini a darmi una mano. Grazie.